Francesco rientrato dall'Iraq sul volo di ritorno torna sul cammino della fratellanza ci saranno altri passi assicura e parla del Libano come seconda tappa sulla pandemia vorrei ricominciare le udienze in presenza perché mi sono sentito un po' imprigionato e sulle donne sono più coraggiose degli uomini ma sono schiavizzate anche al centro di Roma coronavirus corsa contro il tempo per bloccare il contagio cabina di regia per decidere nuove misure ancora più rigide allo studio la chiusura totale durante il fine settimana e per tutti i giorni coprifuoco anticipato già alle 7 di sera in arrivo una pioggia di mini zone rosse in tutta Italia l'approccio di draghi alla campagna vaccini il premier parla dell'accelerazione del piano ora si intravede una via d'uscita corsia preferenziale per le persone più fragili e le categorie a rischio via libera ad astrazeneca anche a chi ha più di 65 anni intanto in Italia superati 100.000 morti dall'inizio della pandemia festa della donna le parole del capo dello stato femminicidi fenomeno impressionante dice Sergio mattarella il presidente della repubblica esorta ad accendere i riflettori non solo sulla violenza fisica ma anche su quella economica troppe donne sfruttate uccise per soffocare il loro desiderio di autonomia e libertà scandalo a corte guai grossi per la corona inglese dopo l'intervista di Harry e Meghan i duchi di Sussex accusano un familiare della casa reale di razzismo nei confronti del loro primo genito per paura che nascesse troppo scuro di pelle i lavoristi chiedono un'indagine e buonasera buonasera a tutti voi dal tg 2000 in apertura dunque il viaggio di papa francesco in iraq appena concluso sul volo di ritorno francesco ribadisce l'importanza del cammino della fratellanza e cita le parole del leader islamico al sistani secondo cui gli uomini sono fratelli per religione oppure uguali per creazione il servizio di paolo fucili vediamo ma io non mi immaginavo le rovine di mosuli qualcosa non mi immaginavo emozioni forti quelle di francesco in iraq condivise oggi con la stampa al seguito sul volo bagdad e roma dopo tre giorni di incontri memorabili la yatollah sciita al sistani su tutti umile e saggio a me ha fatto bene all'anima questo incontro o la madre cristiana irachena che ha perdonato chi le ha ucciso il figlio con una bomba il padre di alan kurdi il bambino annegato sei anni fa sulle spiagge turche emigrare commenta il papa è un diritto umano e invece la migrazione la si vive come una invasione e a partire per l'iraq rivela mi ero deciso leggendo le memorie del premio nobel per la pace nania murad giovane yazida schiavizzata dai miliziani del daesh quel libro lavorava dentro tra i prossimi viaggi in vista c'è il libano ha promesso ai libanesi l'argentina ancora no ma non è patria fobia solo vi confesso che in questo viaggio mi sono stancato molto di più che negli altri l'ultima risposta per l'otto marzo torna sulle donne schiave dello stato islamico e allargando il discorso dobbiamo lottare lottare per la dignità delle donne sono coloro che portano avanti la storia questo non è un'esagerazione un viaggio dunque quello in iraq dalla grande valenza sia sul piano pastorale che su quello diplomatico allora con marco burini i fotogrammi più significativi di una visita destinata a essere scritta nei libri di storia e poi le parole del papa da riascoltare eccole chiese distrutte preti danzanti aiatollà venerabili bambini raggianti che fia tonache grisaglie abiti tradizionali arabo italiano aramaico curdo inglese persone e pietre pietre e persone e pietro o meglio il suo successore che per la prima volta arriva a ur dei caldei da dove abramo partì per un lungo viaggio senza ritorno francesco è tornato a roma ma il viaggio in iraq ha bucato i palinsesti soffocati dal virus ha fatto notizia alla piccola chiesa locale ancora più piccola dopo le recenti persecuzioni ha dato conforto e indicato il traguardo chiedo a tutti voi cari fratelli e sorelle di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lascia indietro nessuno e non discrimini nessuno come è successo spesso in mesopotamia la terra in mezzo ai fiumi guerre saccheggi torture stupri magari in nome di dio come facevano i fanatici dell'isis ostilità estremismo e violenza non nascono da un animo religioso sono tradimenti della religione e noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abussa della religione anzi sta a noi dissolvere con chiarezza i fraintendimenti con parole e gesti sorrisi sguardi silenzi scambiati con l'ayatolà al sistani capo dei musulmani sciiti con il papà di alan kurdi il bimbo annegato tra turchia e grecia sei anni fa oggi i migranti fuggono ancora da guerre e carestie con tutto un popolo meraviglioso e festoso che vuole decidere del proprio destino senza che si intromettano le cosiddette grandi potenze insomma quattro giornate dense di incontri di celebrazioni di gesti ma quale significato soprattutto adesso cosa resta di questo viaggio lo spiega padre antonio spadaro direttore di la civiltà cattolica al microfono di donatello vaccarelli lo ascoltiamo spesso si abusa dell'aggettivo storico perché questo viaggio di papa francesco in iraq invece può davvero definirsi storico mi viene da rispondere con un'immagine l'immagine di karakosh e nell'attesa dell'arrivo di papa francesco la gente ballava sacerdoti suore fedeli laici cantavano e ballavano per esprimere una gioia immensa per un evento che sarebbe stato diciamo impossibile persino da immaginare solo alla fine del 2017 quando poi l'isis fu sconfitto il papa ha toccato con mano la capitale mosul dello stato islamico ed è stato a karakosh è stata distrutta rasa al suolo bruciata dalla dalle milizie islamiche il fatto che adesso ci sia vita ci sia respiro ci sia resurrezione che la gente può cantare di gioia questo è un evento storico ma un evento che mi ha molto colpito è stato un evento molto discreto cioè l'incontro tra papa francesco e l'ayatollah al-sistani anna jaffa questo modo ha stabilito di fatto una citando anche il documento sulla fratellanza umana un dialogo aperto tra sunniti e sciiti è stato come l'enzima che ha facilitato questo processo che certamente proseguirà quindi direi il papa enzima nel dialogo tra gli islamici non solo tra i cristiani e gli islamici ci ricordiamo tutti quei video dell'orrore dell'isis solo qualche anno fa arriveremo a roma con il profilo della basilica di san pietro invece pochi anni dopo è accaduto che il papa arrivasse nelle terre dell'isis nella roccaforte dell'isis si ha qualcosa di ironico questo se vogliamo però non leggerei questo con trionfalismo direi che il signore lavora nella storia in maniera incredibile permette anche questo questo evento che sembra veramente paradossale ritirerei fuori un'immagine che francesco ha usato in un suo discorso cioè l'immagine del tappeto che ha i fili colorati e che quindi ama se vogliamo la diversità il tappeto funziona perché i fili sono diversi allora questo è stato il senso non tanto una vittoria su qualcosa contro il male è stata la vittoria contro l'inimicizia questo sì contro l'odio per far risaltare i colori delle appartenenze religiose diverse dei modi di pensare differenti che però tutti possono convergere per il bene comune e siamo adesso all'emergenza coronavirus nuove misure all'orizzonte per fermare la pandemia la cabina di regia riunita oggi valuta un duro giro di vite già da venerdì fra l'ipotesi lockdown durante il fine settimana e poi coprifuoco anticipato alle sette di sera beatrice bossi l'italia cambia colore e per la prima volta lo fa di lunedì come stabilisce la nuova linea del governo draghi così la campania oggi è scivolata nella zona russa aggiungendosi alla basilicata al molise e ad una miriade di altre province sparse per lo stivale ancona macerata pescara chieti bologna modena rimini ravenna e cesena come vediamo in grafica sono diventate arancioni inoltre anche il friuli venezia giulia e il veneto ma durerà giusto qualche giorno il governo infatti sta già pensando a nuove strette da mettere in pratica fin da venerdì sul tavolo della cabina di regia in corso con il comitato tecnico scientifico c'è l'ipotesi di definire piccole zone rosse localizzate in base all'andamento dei contagi e di anticipare il coprifuoco alle 19 per evitare assembramenti tra le proposte più dure anche quelle di un lockdown generale o limitato almeno al fine settimana i camici bianchi chiedono misure più drastiche dicono di essere allo stremo e i numeri lo dimostrano nelle ultime due settimane i ricoveri sono aumentati del 20 per cento e quasi un contagiato su 100 finisce in terapia intensiva non basta un ordinanza non basta un dpcm c'è bisogno dell'impegno di ciascuno di noi i comportamenti individuali sono e restano la chiave più importante per piegare questa curva e per far ripartire il nostro paese e lo sentivamo da oggi nuovi colori per le regioni fra le misure più dure quelle disposte sulla campagna è diventata zona rossa vietato ogni spostamento comprese le visite apparenti amici come sono state accolte le nuove regole lo vediamo con luigi ferraiuolo io mi sono risvegliata male arrabbiatissima perché stiamo vivendo una situazione proprio brutta ho notato che c'è una significativa diminuzione delle persone che passeggiano che camminano per le strade un blocco stradale sul lungomare di napoli a opera di disoccupati organizzati e un corteo stradale di tassisti in protesta che chiedono ristori hanno accolto la campagna che si è svegliata stamattina di nuovo in zona rossa io sono scesa unicamente per fare delle fotocopie perché sono in didattica a distanza quindi niente viviamo di nuovo questo momento molto molto brutto per tutti noi e sperando che passi presto e sperando nei vaccini a questo punto ci svegliamo con la paura ogni giorno contiamo al rovescio i giorni che ci distanziano dal prossimo tampone e soprattutto ogni malanno delle persone che ci sono accanto degli amici parenti o anche dei semplici conoscenti ci mettono ansia la regione vicina al clinale più duro per l'emergenza sanitaria ci sono stati 1.600 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con 41 morti e soprattutto un aumento delle varianti brasiliana e inglese che hanno indotto a scegliere la strada più pesante per la popolazione io penso che c'è sempre da parte dei cittadini una parte che vive questa condizione rispettando le norme stando attento e via di seguito ma c'è un'altra tanta parte che però sia quando stavamo in zona in zona gialla in zona arancione o adesso per loro è come se non fosse cambiato nulla la strategia è quella di evitare di far saltare gli ospedali anche se in alcuni nosocomi come già novembre scorso aumentano vertiginosamente le attese al pronto soccorso per i casi di coronavirus resiste resiste invece in zona bianca la sardegna ma per evitare il diffondersi dei contagi richiesto tampone obbligatorio prima di sbarcare sull'isola vediamo allora come è andata stamattina al porto di olbia massimiliano niccoli in questa settimana di zona bianca ha parlato della sardegna tutto il mondo ci sono stati sulle riviste internazionali più accreditate pagine intere sul modello sardo e questa è una campagna pubblicitaria un plus per tutta l'isola e per tutte le attività economiche senza pari un tesoretto che la sardegna ora non vuole disperdere al via oggi la campagna che prevede il tampone obbligatorio per chi arriva sull'isola porti aeroporti presidiati da personale medico per procedere alle necessarie operazioni sanitarie l'obiettivo è quello della prevenzione ma non solo sardegna sicura intesa come sicurezza di questo ambiente che ci rende appetibili in proiezione per il periodo primaverile per il periodo pasquale per il periodo estivo per far venire le persone in sardegna benvenute in cui trovano un ambiente che non solo offre le bellezze ma anche una certa garanzia di sicurezza nella gestione dell'epidemia centinaia le persone sottoposte e tampone tutte quelle che arrivate sull'isola nei vari accessi non avevano con sé un certificato di vaccinazione o di negatività al covid questo sistema si dovrebbe adottare in più in più regioni io vengo da roma e penso comunque sia una cosa necessaria vi ho aspettato un po' però ne va bene sempre sono atterrato dieci minuti fa e sto uscendo adesso quindi meglio di così e purtroppo con i dati di oggi diffusi nel pomeriggio l'italia supera la cifra simbolica di oltre 100.000 morti la curva dei contagi punta in risalita sul fronte vaccini il ministero dà il via libera ad astrazeneca anche a chi ha più di 65 anni purché però non prenda già farmaci per altre patologie letizia davoli oltre 100.000 vittime da inizio pandemia con i morti di oggi 318 contro i 207 di ieri il numero dei decessi legati alla pandemia in italia superato quota 100.000 mentre crolla il numero dei positivi 13.000 contro i 23.000 di ieri ma con appena 181.000 tamponi numeri bassi per la consueta chiusura festiva dei centri di test stabile al 7,5 per cento il tasso di positività mentre continua a salire il numero dei posti occupati sia nei reparti covid che nelle terapie intensive sul fronte vaccini non si è ancora risolto il braccio di ferro tra europa ed astrazeneca mentre bruxella annuncia l'arrivo di 100 milioni di dosi di vaccino al mese per i paesi ue inclusi quelli ancora in fase di approvazione blocca l'esportazione del colosso britannico accusato di avere consegnato all'europa appena il 10 per cento di quanto pattuito l'italia intanto dal via libera all'utilizzo del siero astrazeneca anche per gli over 65 il vaccino da oggi potrà essere quindi somministrato dai 18 anni in su ma solo in soggetti senza patologie e in buona salute dopo essere stato chiuso in 12 regioni arriva anche per la sicilia l'accordo con i medici di famiglia per le vaccinazioni anti covid secondo la bozza in discussione in queste ore i medici riceveranno 10 euro per ogni iniezione nel proprio studio medico 30 se la somministrazione avviene al domicilio del paziente e 32 euro all'ora per vaccinare in un centro dell'azienda sanitaria per cercare di contenere i contagi e allo stesso tempo salvare la stagione turistica trenitalia intanto lancia il treno covid free da aprile i passeggeri del frecciarossa roma milano faranno il tampone prima di salire a bordo in una sorta di prova generale per i viaggi estivi ma resta allarmante proprio la situazione in lombardia che si trova in arancione rafforzato mentre prosegue la campagna vaccinale fra gli insegnanti vediamo come sta andando con luciano piscaglia sì era l'ora perché siamo la categoria più a rischio insieme medici sanitari comunque quindi era l'ora sì la lunga attesa è terminata da questa mattina in tutta la lombardia si somministra il vaccino agli insegnanti e al personale della scuola in questo centro allestito all'interno della fabbrica del vapore una storica area industriale milanese recuperata per ospitare eventi sociali artistici e culturali è iniziata la vaccinazione dei docenti e degli operatori scolastici delle scuole statali presto toccherà anche a quelli delle scuole paritarie aspettavamo il vaccino con ansia perché è un modo veramente per ricominciare proteggere noi stessi i nostri familiari gli alunni finalmente anche per noi lo aspetta tutta l'italia mi ritengo francamente privilegiato perché c'è una fasce della popolazione che sta ancora aspettando beh insomma sono qui per spirito per senso di responsabilità fondamentalmente perché chiaramente stando a contatto tutti i giorni con tante persone ragazzi colleghi e genitori insomma è necessario in lombardia cresce la preoccupazione per la diffusione delle varianti del virus e per gli ospedali sotto pressione si teme il ritorno in zona rossa e non mancano le polemiche sull'organizzazione delle vaccinazioni con molti ultraottantenni ancora in attesa sono però quasi 130.000 su 200.000 gli insegnanti e gli operatori scolastici che hanno già aderito alla campagna ed oggi sono stati vaccinati i primi 4.800 la speranza di ritornare presto a scuola lo aspettiamo tutti non solo i genitori ma anche i ragazzi gli insegnanti di tutto il personale della scuola una scuola vuota anche proprio come edificio è una scuola morta e sulla pandemia video messaggio del premier la conferenza sulla parità di genere con l'accelerazione dei vaccini dice mario draghi la via d'uscita non sarà lontana sul fronte del recovery il titolare dell'economia assicura fondi in arrivo a fine estate su tutto sentiamo augusto cantelli nel piano di vaccinazioni che sarà nei prossimi giorni decisamente potenziato si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli non è il momento di dividersi non farò promesse che non possa mantenere in un video messaggio alla conferenza sulla parità di genere il presidente del consiglio draghi torna a far sentire la sua voce emergenza sanitaria con l'accelerazione della campagna di vaccinazione ed emergenza economica il mio pensiero costante è diretto a rendere efficace ed efficiente l'azione dell'esecutivo nel tutelare la salute sostenere chi è in difficoltà favorire la ripresa economica accelerare le riforme ma è il momento di dare una risposta alle tante persone che soffrono per la crisi economica che rischiano di perdere il posto di lavoro di combattere le disuguaglianze tra giovedì e venerdì il governo dovrebbe varare il decreto sostegno di 32 miliardi aiuti ad imprese anche a fondo perduto rifinanziamento del reddito di cittadinanza e di emergenza previsti anche interventi di 200 milioni a sostegno delle famiglie si accelera anche nella stesura del piano di ricostruzione il recovery plan da presentare in europa entro due mesi e che sarà di circa 192 miliardi come spiega il ministro dell'economia franco in commissione riunite di camere senato ora la festa della donna intervento del presidente della repubblica alla cerimonia al quirinale nelle parole del capo dello stato grande attenzione verso i 12 femminicidi avvenuti quest'anno e poi la condizione lavorativa femminile manifestazioni a distanza naturalmente in tutta italia barbara masulli oltre alle unghie delle donne scese in piazza oggi il fucsia ha colorato anche il dito di maurizio cattelan l'opera d'arte che da 11 anni campeggia in piazza affari a milano l'idea è stata dell'artista di strada ivan tresoldi e non è altro che un atto di protesta contro l'assenza delle donne nei luoghi del potere e quello che denunciano tutte loro denunciano davanti al palazzo della borsa la violenza economica e finanziaria subita in particolare negli ultimi 12 mesi moltissime persone e moltissime di noi hanno dovuto scegliere fra reddito e salute fra reddito e scuola fra reddito e fuoriuscita dalla violenza filo fucsia e questo è il colore che abbiamo scelto come come non una di meno che unisce tutte le nostre oppressioni vogliamo misure contro il gender gap vogliamo quindi salari degni secondo l'istata rispetto a dicembre 2020 nel mondo del lavoro ci sono 440 mila donne in meno e un milione 300 mila rischiano di rimanere senza occupazione c'è poi la piaga senza fine delle donne uccise già 12 da inizio anno sono state ricordate a torino con questo flash mob ma le ha ricordate anche il presidente mattarella una per una è inaccettabile detto il capo dello stato che ha rivendicato il rispetto della libertà e dell'autonomia di una donna principi che vanno affermati ma anche difesi promossi e concretamente attuati senza sottovalutare l'importanza del linguaggio dobbiamo respingere le parole di supponenza quando non di odio di disprezzo verso le donne parole che generano e alimentano stereotipi e pregiudizi ottusi e selvaggi la parità di genere non è quindi soltanto una grave questione economica e sociale ma come sotto poc'anzi ricordato è anche una grande questione culturale educativa ora in libano ne ha parlato anche il papa della crisi attraversata dal paese strade bloccate in quasi tutte le città in seguito alle manifestazioni legate alla crisi economica seguiamo massimiliano cochi di prima mattina centinaia di manifestanti hanno bloccato le principali vie di comunicazione in tutto il libano innalzando barricate con i cassonetti e incendiando pneumatici qui alla periferia di beirut hanno fermato un camion carico di farina che sostengono stesse per essere contrabandato in siria la gente ha fame dice questa ragazza annunciando che per questo le proteste contro il governo riprese da quasi una settimana cresceranno sempre di più da un anno esatto da quando cioè non è riuscito a rimborsare dei bond emessi nel 2010 il libano è in default la lira locale ha perso oltre l'80 per cento del suo valore così come gli stipendi oltre il 50 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà la caritas che ha visto quadruplicare le richieste di cibo e medicine denuncia che la popolazione allo stremo e servono aiuti subito tutto questo è aggravato dalla pandemia e da una crisi politica che non conosce soluzione il governo infatti si era dimesso ad agosto scorso dopo la devastante esplosione nel porto di beirut da allora i partiti però non sono riusciti a trovare un accordo per formare il nuovo governo e proprio ieri il premier di missionario a sandiab ha minacciato di interrompere il suo lavoro di gestione degli affari correnti se le trattative non dovessero sbloccarsi restiamo all'estero sta facendo discutere nel regno unito l'intervista in cui harry e megan denunciano la discriminazione subita dalla duchessa di sussex da parte di un componente della famiglia reale per il colore della pelle i laboristi adesso chiedono un'indagine per razzismo a corti caterina dall'olio l'onda d'urto dell'intervista di harry e megan con offra winfrey è arrivata nel regno unito la si aspettava da mesi qui da noi nemmeno tanto se non fosse che l'ultimo capitolo della vicenda dei duchi di sussex ha assunto definitivamente i contorni della telenovela ebbene il missile lanciato da hollywood contro i windsor è l'accusa di razzismo la famiglia reale avrebbe avuto da ridire sul fatto che il piccolo arci il figlio del principe harry e di megan rischiava di avere la pelle troppo scura in una società multietnica come quella britannica o quel che ne resta dopo politiche sempre più protezionistiche questa non è una cosa da poco tanto che il governo di londra ha subito marcato la distanza i laburisti hanno addirittura reclamato un'inchiesta da parte di buckingham palace i britannici chiedono in maggioranza che harry e megan vengano spogliati dei loro titoli reali dall'altra parte dell'atlantico gli americani ancora più sensibili al tema della discriminazione razziale si sono schierati tutti a difesa di megan frotte di celebrities sono scese in campo sui social per manifestare la propria indignazione e a palazzo tutto tace in pieno stile windsor d'altronde persino la corona in questo periodo tra pandemia e recessione dovrà avere tutt'altro per la testa ma è difficile che la regina questa volta possa continuare a far finta di niente la musica che ci regala una riflessione al femminile in questa giornata dedicata alle donne con l'unione artistica fra tre grandi rappresentanti del cantautorato italiano scopriamole con silvio vitelli effettivamente ci eravamo incontrate più di una volta nelle nostre vite artistiche ma mai avevamo messo insieme queste esperienze quindi è stato veramente qualcosa che ci è piaciuto fare tre cantautrici unite dall'amicizia e dalla stima reciproca ma allo stesso tempo tre donne come quelle alle quali dedicano la nuova canzone anime di vetro il vetro si materiale dalle caratteristiche peculiari trasparente forte e allo stesso tempo fragile l'animo femminile trasparente si può leggere forte può superare qualunque intemperia e nello stesso tempo fragile quando le persone non sanno riconoscerne la bellezza un'unione artistica quella di cantautrici che in poco più di un anno dalla sua nascita ha visto un tour interrotto purtroppo già due volte dalla pandemia il supporto ad emergency e la creazione di una scuola che sostiene le nuove leve al femminile e ovviamente un disco insieme di cui questo è il secondo singolo in questi stessi minuti stiamo sondando il pianeta marte allo stesso tempo sulla terra ci dobbiamo occupare di donne ferite e indifese è un paradosso purtroppo stiamo ancora parlando del ruolo della donna nella società cioè è incredibile questa cosa no giustamente come dici creare nuove leggi a protezione della donna perché ancora non sono abbastanza sicuramente la cultura sicuramente le scuole siamo molto indietro troppo indietro troppo